Nella video-lezione di oggi parleremo di uno dei personaggi più controversi del primo secolo dopo Cristo per i suoi rapporti con Nerone e per essere stato un filosofo che ha dato un'impronta importante alla storia della letteratura latina. Oggi parliamo di Lucio a Neo Seneca. Seneca nasce a Cordova nel 4 a.C. La data non è sicura, altri studiosi propongono altre date, però non dovremmo essere lontani appunto da questa data. Figlio di un personaggio importante, famoso dell'epoca Seneca, il Retore, viene appunto dal padre portato a Roma presto, molto presto, in tenerissima età e qui passerà il resto della sua vita. Lui ricorda nelle sue opere di aver avuto come suoi maestri Papirio Fabiano, lo stoico Attalo e Sozione da cui avrebbe preso la morigeratezza nei costumi. Per rispetto della volontà paterna, un po' controvoglia, comincia il cursus honorum, anche se le sue qualità di grande oratore lo mettono subito in evidenza. Purtroppo lo mettono in evidenza anche con gli imperatori, il cui rapporto non sarà mai facile. Lo stesso Caligola meditava di ucciderlo, poi, insomma, convinto di una malattia terminale di Seneca, ha desistito da questo suo intento. Nel 41 d.C. Seneca viene mandato in esilio in Corsica e rimarrà fino al 49 d.C. Per quale ragione? Viene accusato da Claudio, per realtà viene accusato da Messalina, di adulterio con Giulia Iviglia, che era una delle avversarie come prima donna di Messalina stessa a Roma. Non sappiamo se questo adulterio ci fu e in quali termini, fatto sta che Seneca fu costretto a ritirarsi, andare in esilio in Corsica. Qui passò degli anni molto difficili e testimonianza di questo sono alcune delle sue consolazioni. Nel 49 finalmente riesce a tornare a Roma e qui torna perché Agrippina, ancora imperatore Claudio, vuole che diventi il maestro di Nerone, di suo figlio e nei piani di Agrippina, come poi fu realmente futuro imperatore, al posto dello stesso Claudio che morirà in circostanze alquanto sospette. Il resto della biografia di Lucio a Neo Seneca è caratterizzato dalla sua permanenza alla corte di Nerone e quindi il suo rapporto naturalmente con il potere. Seneca, insieme ad Afranio Burro, che era appunto il prefetto del pretorio, sono stati i consiglieri più fidati di Nerone, almeno quando Nerone era ancora in tenera età, non era maggiorenne, voluti proprio dalla madre Agrippina perché potesse ben indirizzare il futuro imperatore, che proprio nel 54 prende il potere sostituendosi, quindi dando a succedere a Claudio, morto abbiamo detto in circostanze non del tutto chiare. I primi anni e il potere di Nerone sono anni che tutto sommato gli storici ritengono particolarmente felici o comunque non travagliati come quelli dal 59 in poi. Sicuramente Nerone ancora in tenera età e sicuramente Afranio Burro, ma soprattutto Seneca, possono far sentire il peso delle loro decisioni e dei loro consigli naturalmente. Nel 59 succede un episodio particolare, dopo svariate discussioni Nerone uccide Agrippina e così di fatto si priva non solo della madre, ma anche di un personaggio ingombrante, troppo autorevole per Nerone nella corte, che lo metteva in qualche modo in ombra. Naturalmente la domanda che possiamo farci è quella. Seneca sapeva di questa uccisione organizzata a Nerone? Fino a che punto Seneca è vera conoscenza di ciò? Fino a che punto, ma qui forse esageriamo, ne era coinvolto in prima persona? Quello che possiamo dire è che Seneca rimane a fianco di Nerone anche dopo la morte di Agrippina. Per quanto riguarda i coinvolgimenti di Seneca in questo omicidio, dubbi permangono e ci gli ha lo stesso Tacito, il più grande storico della Roma imperiale, che se avesse trovato una prova forte di ciò non l'avrebbe taciuta. Certo ombre fosche circondano la corte di Nerone e lo stesso Seneca. Nel 62 ecco che la situazione precipita. Seneca è ancora al fianco di Nerone quando nel 62 Afranio Burro muore e al posto di prefetto del pretorio sale un personaggio senza scrupoli, terribile, tigellino. Vista la situazione un anziano Seneca preferisce lasciare stare. Seneca nel 62 d.C. abbandona la vita politica. Questo abbandono per noi è particolarmente significativo perché negli anni tra il 62 e il 65 d.C. Seneca si dedica al secessus, cioè si separa dal mondo esteriore e comincia a scrivere. Gran parte delle opere che noi abbiamo infatti si riferiscono a questo periodo importante. Il periodo si conclude con il 65 perché nel 65 viene scoperta una congiura dei Pisoni, un tentativo cioè da parte di una nobile aristocratica famiglia senatoriale romana che cerca o avrebbe cercato di uccidere Nerone. Nerone approfitta di questa situazione, si vendica dei congiurati e di fatto si vendica anche di quelle persone che in qualche modo direttamente, indirettamente o semplicemente i suoi nemici, a prescindere dall'aver partecipato alla congiura meno, potevano appunto recarli d'anno e insieme con Lucano, insieme con Petronio arbitro muoiono per volontà di Nerone questi scrittori e con loro muore anche Seneca. Grazie.